SIGLA Ne sono successe dall'ultima volta che ti ho visto. Ho perso il martello tipo ieri, perciò è abbastanza recente. E ho iniziato un viaggio in cerca di me stesso. Dove ho incontrato ti. Dove siamo? Non puoi immaginare. Era la dea della morte, ha invaso Asgard. Oh, quanto mi mancava. E io e te abbiamo combattuto. Ho vinto io. No, ho vinto io, facile. Mi sembra strano. Beh, è la verità. Asgard è morta. E rinascerà a mie immagini. Non sei contento di vedermi? Dobbiamo fermarla qui ed ora, per evitare Ragnarok, la fine di tutto. Metto insieme una squadra. Come ai vecchi tempi. Sorpresa. Ci divertiremo. Salve! Ciao. È un combattente. Ci siamo! Sì! Non sono una regina. Né un mostro. Sono la dea della morte. Tu, invece, sei il dio di cosa? Siamo uguali, noi due. Due idioti irascibili. Sì, uguali. Hulk come il fuoco. Thor come l'acqua. Io direi tutti e due come il fuoco. Hulk come il fuoco violento. Thor come il fuoco soffocato. Sì, vor hàng che? Sì, come l'acqua. Sì,occwoman.